Sì ormai è partito a lei Dante incastri a macchina a lei Dante dai vai dai bravo puoi vicinare la sinistra accanto alla destra volendo forza Dante puoi anche rinviare dai 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 eh bastardo duro forza Dante dai 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 eh dai 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 è segnato su più su più su a lei a lei è lì di più su Dante il segno è là ok a lei Dante dai esci via esci via esci via esci via dai dai è brutto bravo bravo grazie a tutti grazie a tutti Grazie.